Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Prestare però attenzione per pioggia segnalata su tutta la regione. Sulla a 12 vento forte tra Sestri Levante e Carrara. Sulla FIPV per lavori lo svincolo di Montelupo Fiorentino è chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!